Buongiorno a tutti, oggi abbiamo dato lo start a Asso Castelli Real Estate, questa nuova iniziativa di Asso Castelli che si occuperà della compravendita e della locazione dei modi d'epoca e storici di proprietà dei soci di Asso Castelli. Quindi nelle intenzioni di Asso Castelli, dei suoi soci e dei suoi partner c'è quella di creare un operatore di riferimento in questo particolare ambito del comparto immobiliare. Una delle particularità di Asso Castelli Real Estate è la seguente, una parte degli introdotti provenienti dalle intermediazioni di compravendita e di locazione è destinata ad alimentare il fomo di Asso Castelli, l'Eritage Bonus, che vi ricordo contribuisce a interventi di conservazione e di restauro del patrimonio architettonico storico italiano. Spero di darvi presto degli aggiornamenti su questa iniziativa e vi ringrazio.